Betlemme ci conduce alle radici della fede. Il Vescovo Luigi Ernesto Palletti ha celebrato la messa di mezzanotte nella cattedrale della Spezia. Il Natale ci dice che ciò che stiamo credendo è vero, che si è realizzato, che è tangibile e che è del tutto visibile nella sua storicità. Questa è una parte del messaggio del Vescovo della nostra diocesi. Il box centrale è dedicato alla giornata della pace. La buona politica è al servizio della pace. Per la seconda volta, quindi, in 52 anni, la parola politica compare nel tema del messaggio pontificio per la giornata della pace che si celebra il primo gennaio. L'articolo di spalle è dedicato ai presepi, il fascino del presepe al diocesano di Via Prione. Una recensione della mostra che si può ammirare fino al 20 gennaio. A centropagina il premio della bontà o della solidarietà per il 2018 è stato assegnato al gruppo del volontariato vincenziano Colazioni col Sorriso, coordinato da Anna Iavazzo. A fondopagina il cappellini Sauro e Lemporio. Gli alunni della scuola hanno raccolto e donato molti generi alimentari. E infine una giornata missionaria per i bambini che soffrono. Domenica 6 gennaio, solennità dell'Epifania, si celebra la giornata missionaria dei ragazzi. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.